Nei periodi di secca, in estate, nel periodo estivo, la media del livello può arrivare dove c'è segnato il numero zero e come vedete quest'anno non siamo ancora nella piena estate ma è ben più di un metro sotto il livello zero. Appare così il fiume Olio nella bassa Bresciana nel tratto tra Monticelli e Ponte Vico. Chi conosce bene queste acque non ricorda di averlo mai visto in queste condizioni a fine giugno. Il bacino idrico fa registrare una portata inferiore del 64% e questo fa emergere zone in cui l'acqua raggiunge i pochi centimetri svelando un paesaggio che è solitamente sommerso. Vorrebbe essere più di dieci anni che abbiamo la barca in olio, io e i miei amici. Ci divertiamo praticamente tutte le settimane a uscire, non solo a pescare ma anche solo a vedere il paesaggio in deriva con la barca. Come è noto quest'anno come il livello basso del fiume. E appunto in questo punto abbiamo dovuto fermarci e legarci a una pianta perché diventa innavigabile. Struviamo a sinistra una spanna d'acqua con della legnaia di fronte. Siamo costretti a fermarci e tornare indietro. Ad agosto ci sono sempre le secche, i periodi di magra dell'acqua ma... almeno un mezzo metro più alto di com'è adesso il livello. E adesso non siamo ancora ad agosto, quindi se non verranno dalle piogge immagino... Non voglio pensare come sarà ad agosto. Parecchie legnaie e sfortunatamente anche... delle discariche a cielo aperto, chiamiamole, perché come hai potuto notare anche te prima... ci sono immensità di gomme sul fondale. Come puoi notare qua una piccola discarica si è formata appunto per la legnaia. Lungo l'olio non è consentita la navigazione se non per gli autorizzati e di questi tempi... e è pericoloso avventurarsi nelle sue acque. Io e i miei amici, scherzando, lo chiamiamo che è un fiume malato. È un fiume malato perché appunto non l'abbiamo mai visto così. Sono fondali, sono sempre stati belli chiari, comunque ghiagiosi o sobbiosi... invece adesso sono ricoperti praticamente solo di alghe.